Agente traditore rilevato Alveare restauratore traditori rilevato Alveare restauratore nemico rilevato Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Mina a ricerca esplosione aerea nemica rilevata Mina a ricerca esplosione aerea I don't know I don't know Lena a ricerca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.